Locali, ambienti e aree comuni. Oggi più che mai è necessaria la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. Anche le superfici sono da igienizzare, visto che possono essere contaminate da Covid-19. Ma quali sono i rimedi più idoni ed efficaci? Anche se non ci sono evidenze scientifiche che svolga una funzione sterilizzante nei confronti del virus, in tanti stanno optando per l'ozono. Il primo è quello che fanno di solito delle agenti specializzate che arrivano e spruzzano cloro o similari, anche naturali, e possono essere fatte solo da quelle aziende. Poi ci sono altri metodi che sono o l'ozono o l'ionizzazione. Se noi utilizziamo l'ozono abbiamo un apparecchio che è calcolato in funzione di quello che a me serve. Io posiziono la mia macchina nell'ambiente in cui voglio sanificare e quello agisce da solo. Non ci devono essere persone o animali nel momento in cui viene sanificato. Dopodiché si areggia e la sanificazione dell'ozono è il massimo perché è superiore al cloro o all'acqua assiginata. Con l'ozono io posso sanificare anche ambienti che non potrei sanificare con prodotti acquiferi o aerosol, che sono negozi, camere d'albergo, ambulatori. Oltre a questi c'è l'ionizzazione che purifica l'aria. Fondamentale poi è sanificare i condizionatori. C'è un protocollo dell'OMS che dice che, perché poi c'erano delle fake news, in cui dicevano che il climatizzatore non poteva essere acceso. In realtà addirittura il climatizzatore riduce l'effetto del Covid. Quindi se non ho ricambio di aria, di aria meccanizzata, quindi che mi prende aria da fuori e mi butta fuori quella interna, è bene areggiare, quindi avere delle porte sempre molto aperte e areggiare il più possibile. I tempi per sanificare gli ambienti invece sono piuttosto rapidi. Ad esempio un macchinario adatto ad un locale di 40 metri quadrati agisce in 20-30 minuti. I prezzi inoltre variano in base alla qualità e capacità dello strumento, ma anche all'ampiezza della stanza. Il costo potrebbe essere ammortizzato in pochi mesi, spiega Vicarelli, visto che in particolare nei posti di lavoro una ditta specializzata dovrebbe intervenire ogni giorno a fine turno. Oggi troviamo sul mercato tantissimi prodotti che vengono anche da mercati esteri e che utilizzano solo magari lampa di uva e che addirittura delle volte sono anche controproducenti perché creano non solo azono ma anche azoto che va a determinare dei possibili danni su computer e quant'altro. Una 40 metri cubi italiana certificata potrebbe costare sui 700 euro, diciamo. Chiaro che se io ho un piccolo ufficio da 30-40 metri quadri, questo apparecchio che è un ionizzatore buonissimo perché è un marchio leader, costa sui 300 euro.